Hai sempre il coraggio di guardare gli altri negli occhi? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Attingo da un altro libro per la provocazione di oggi. Eccolo qua. Farsi santi con ciò che c'è, ma a noi non interessa l'aspetto della santità quanto il contenuto del libro che come sempre ha delle provocazioni davvero interessanti. In questo caso l'autore, il solito Luigi Maria Epicoco, ma va, guarda un po', ci stimola prendendo spunto da un brano degli Atti degli Apostoli. Uno dei primi miracoli di San Pietro, che trovando un paralitico che chiede l'elemosina davanti al Tempio, prima ancora di suggerirgli di alzarsi e camminare, che sarebbe il vero e proprio miracolo, ne fa un altro, dice Epicoco, forse ancora più importante. E cioè gli dice guardaci negli occhi, guardaci in faccia, alza lo sguardo e guardaci. Ma che razza di miracolo sarebbe? Beh, è il miracolo di restituire una relazione. Perché quando è che non guardiamo negli occhi le persone? Quando è che cerchiamo di sfuggire il loro sguardo? Quando è che cerchiamo di fare di tutto per non stabilire un contatto, stabilire una relazione? Beh, i casi sono tanti, quando ci vergogniamo, quando vogliamo sfuggire la persona, quando quella persona ci infastidisce e vogliamo evitare in ogni modo che prenda un contatto anche solo visivo con noi. Devo guardare di qua. Quindi devo cercare di guardarvi negli occhi. Perché guardare negli occhi ha un significato preciso, ha proprio il significato di lavorare su una relazione. Fosse anche in maniera, potremmo dire, non sana o comunque non consona. Potrebbe essere lo sguardo duro del pistolero che cerca di sfidare l'avversario, guardandolo negli occhi e dicendo attento che sparo prima io perché sono un duro. Non ho paura di te. Non ho paura di togliere lo sguardo. Non mi è venuto benissimo, eh. Oppure potrebbe essere lo sguardo un po' seducente. Eh, neanche questo mi è venuto benissimo. Vabbè, ci siamo capiti. Guardare negli occhi vuol dire stabilire una relazione. E allora la domanda che dobbiamo farci è quando regaliamo questa relazione? Quando stabiliamo questa relazione con le persone che ci circondano? Che siano clienti, che siano collaboratori, che siano familiari, che siano parenti, che siano amici. Quando facciamo loro il dono di guardarli negli occhi? Perché questo vuol dire aprirsi. Questo vuol dire mettersi in contatto. Questo vuol dire costruire ponti. E potremmo chiederci quando non lo facciamo, invece. E per chiudere ho un'ultima domanda, che forse è la più importante di tutte. Quando abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi, guardandoci allo specchio? Buongiorno e buon caffè.